Ciao, sono Irene Ballim, la titolare della Cantina del Frignano. Ci troviamo qua sull'alpennino modenese di preciso appazzano di Serra Mazzoni. Vi racconto un po' di noi. Tutto inizia nel 1993 con il primo vigneto sperimentale piantato in collaborazione con la regione Emilia Romagna su queste meravigliose colline in altezza di 400 metri sopra il livello del mare. Partendo dalla struttura dei terreni, esposizione, giusta altezza, pendenza tutto gioca al nostro favore per ottenere dei grandissimi risultati. Coltiviamo tra i boschi di querce e roverella vitini antichi ed autoctoni come l'uva tosca, malbo gentile, gaspa rossa, ma anche vitini internazionali come pieno nero, chardonnay, merlot e cabernet trovano posto importante nella nostra produzione. La nostra produzione comprende vini metodo classico, metodo ancestrale, vini rossi e bianchi fermi ed anche vini da dessert. Dal 2008 i vigneti sono in gestione biologica, una certificazione che rispecchia fortemente la filosofia aziendale. Tutte le fasi di trasformazione dell'uva si svolgono all'interno dell'azienda con rispetto e cura per l'ambiente. Siamo soci della Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti FIVI, dell'Associazione Viticoltori Naturali VinNatur, Associazione Nazionale Italiana Le Donne del Vino. Per dare più servizi ai nostri clienti, dal 2020 la cantina è diventata un'azienda con accoglienza enoturistica. Negli anni della nostra attività vitivinicola abbiamo creato una struttura che piace a molti. Spero che sarete dello stesso parere. Veniteci a trovare che al vostro arrivo apriremo una bottiglia di vino da degustare, che abbia la propensione di suscitare sentimenti di un'amicizia nascente. A presto!